salve a tutti amici bentornati ancora una volta qui su speedy news parliamo oggi di pagamenti imps grandi sorprese parliamo di conguaglio rdc bonus social card e tanto altro vediamo insieme quindi tutte le date nel dettaglio ma prima mi raccomando iscrivetevi al canale fatelo sempre con campanellina lasciatemi un bel like e perché no magari abbonatevi al canale quindi ultimi pagamenti in corso da parte dell'inps quando arriveranno i famosi conguagli tanto attesi allora iniziamo subito dal reddito di cittadinanza perché in questi giorni di pagamento sono ancora in corso i flussi delle ricariche ordinarie di fine mese del reddito di cittadinanza appunto per il mese di febbraio a partire da ieri ancora oggi inps erogherà di tutto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ci sono stati comunque problemi anche questa volta purtroppo e quindi c'è chi è senza lavorazione o chi ha la lavorazione ma è senza la disposizione di pagamento imposte insomma il solito caos attendiamo a breve nel mentre le lavorazioni dell'assegno unico figli ad integrazione sul reddito di cittadinanza abbiamo poi nuove date a partire da ieri 27 febbraio ancora oggi 28 domani primo marzo e poi ancora il 3 marzo per i pagamenti dei bonus 150 euro e 200 euro per chi ancora sta aspettando grande attesa invece per i flussi di carta acquisti del bimestre gennaio febbraio e dei trattamenti integrativi i cosiddetti bonus IRPEF sui quali appunto ci sono ancora delle attese per molti vi voglio ricordare che se siete tenuti a ripresentare il modello rdc com dovete farlo e lo dovete fare a partire dal primo marzo mi raccomando e poi voglio porre l'attenzione sul fatto che ad oggi mancano ancora tutti quei decreti attuativi della manovra di bilancio che renderanno operativi alcuni bonus come il bonus trasporti come appunto la nuova carta di risparmio annunciata dal governo il rendito alimentare perché ve lo dico questo perché molti di voi mi scrivono nei commenti mi domandano mi chiedono informazioni sull'arrivo di questi bonus e purtroppo questi bonus anche se promessi e inseriti all'interno della nuova legge di bilancio non possono partire essere resi operativi e di fatto essere erogati ai beneficiari se non ci saranno i decreti attuativi purtroppo i decreti attuativi sono in ritardo abbiamo già scavallato la data entro cui avrebbero dovuto essere emanati così non è stato e quindi ovviamente dobbiamo ancora attendere mi rendo conto che moltissimi di voi contano in un momento così difficile che rimane non dimentichiamo ad essere difficile per moltissime famiglie questi bonus possono essere un valido supporto un valido aiuto e quindi speriamo presto che questi decreti attuativi vengano emanati ovviamente speedy news vi informerà come sempre tempestivamente al riguardo per il momento vi saluto vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi al canale fatelo sempre con la campanellina lasciatemi un bel like ed abbonatevi io vi saluto vi ringrazio vi aspetto presto qui con il prossimo video arrivederci a tutti da barba grazie a tutti